Buonasera, questa sera è una trasmissione speciale con il dottor Remo Fontana, affronteremo al posto del solito di Gigo le notizie quotidiane del giorno, ma la notizia mondiale dell'attacco in Francia, dei tantissimi morti non avremo veramente contezza per il fine dei prossimi giorni e quindi capire con lui che cosa è stato fatto già e che cosa si dovrebbe fare in un'eventuale emergenza, visto che uno dei prossimi obiettivi è Roma, ma Londra, ma facciamo senza neanche allarmare nessuno l'eventuale obiettivo terrorismo come noi potremmo difenderci tenendo presente che non abbiamo l'aeroporto, ma abbiamo il porto. Quindi in passato cosa è stato fatto? Mi ricordo che una decina di anni fa si preparò un'eventuale problematica antiterrorismo, tu eri ovviamente parte in causa e quindi che cosa fu fatto all'epoca. Allora, buonasera direttore e buonasera a tutti gli ascoltatori. Beh, intanto devo dire una cosa, non posso che non essere rimasto sconcertato, amareggiato e strameravigliato per quello che è successo, io ho seguito fino verso le due di questa prima mattinata i fatti di Parigi e quindi un'azione militare ma che sicuramente esula dai classici modi anche delle odontologie, se vogliamo correttezza militare, ma classici del più becero terrorismo. vorrei aggiungere anche una cosa, nella sfortuna c'è la fortuna che finora sono state utilizzate almeno per quanto mi risulta sia in questi attacchi che in precedenti attacchi anche a Parigi armi per così dire convenzionali, anche se direi sporche perché dalle notizie che hanno dato i DG sembra che le granate avessero dei chiodi dentro e quindi vengono considerate per così dire armi sporche. Io non voglio pensare alla possibilità di attacchi chimici o batteriologici perché allora visto che insomma si sta tutto modificando in una evoluzione continua da parte di questi elementi che secondo me fanno della religione, io non entro nel merito delle religioni, ma probabilmente è una religione interpretata anche in un modo scorretto, con tutto rispetto per tutte le religioni. Laddove la vita umana sembra non contare niente, come così non conta neanche la vita degli stessi attentatori che sono disposti a tutto e che purtroppo, come accade anche nei criminali più incalliti, esiste un sistema di mediazione o qualche cosa, ma lì a mio modestissimo parere non esiste assolutamente mediazione, ma purtroppo come abbiamo visto questa notte uccidevano persone ignare, ragazzi, figli, potrebbero essere nostri figli giovanissimi che stavano passando una serata tranquilla in una tiepida nottata parigina del venerdì, per cui senza ombra di pietà alcuna e senza scalpo alcuno. Quindi purtroppo secondo me, e non sta a me dirlo perché ci sono le intelligence, i reparti appositi, ma sicuramente prima si interviene in questi casi, pur valutando che può esserci qualche perdita fra i civili, ma io ritengo che sia opportuno agire prima possibile. Allora il direttore Pietro poco fa mi chiedeva che cosa è stato fatto a Civite Vecchia, ma io posso dire nel mio assolutamente piccolo, perché non sono nessuno, ma circa dieci anni fa, anno più, anno meno, io fu incaricato dall'allora comandante, ero già vicecomandante del corpo della polizia locale di Civite Vecchia, di redigere, sotto ovviamente era una volontà della prefettura di allora, ricordo che le sedute erano presedute dal vice prefetto dottor Mecozzi, in realtà noi dovevamo elaborare un piano per la possibilità di un crash aereo, versione di un possibile crash aereo nello specchio acqua e antistante la nostra città. Di fatto in questo tavolo ci siamo ben presto accorti anche tramite gli organi competenti che questa possibilità era praticamente nulla o vicina allo zero, ma allo stesso tempo ci siamo resi conto e ovviamente la situazione era ben diversa da quella che abbiamo oggi a livello di terrorismo, a livello di instabilità mondiale e soprattutto per quanto riguarda i paesi medio orientali, ci siamo accorti invece che comunque abbiamo un grosso polo energetico, quindi le centrali nucleari, abbiamo due importanti insediamenti militari, quale l'NBCR, nucleare, batteriologico, radiologico, reparto trasmissioni e abbiamo un porto dove ogni anno si muovono milioni di passeggeri e altrettante centinaia di migliaia di autovetture. Allora, senza fare nessunissimo allarmismo perché come hanno fatto in Francia oggi sembra si siano fermati ma la Francia va avanti e quindi tutte le attività debbono continuare. Ma in quel piano che noi poi terminò perché non so per quale motivo noi ci siamo resi conto delle difficoltà in caso di un attacco terroristico a una nave passeggeri che fra equipaggio e passeggeri conta anche 7-8 mila persone, in caso di un semplice incendio oppure di un vero e proprio attentato o di un natante fatto affondare all'imbocco del porto che potrebbe bloccare tutto, oppure di un natante che arriva dall'esterno del porto e velocemente carico di esplosivo viene fatto esplodere addosso a una di queste navi. I problemi che sorsero quali furono? Intanto furono l'ammassamento, perché purtroppo poi c'è questo, delle decine, delle centinaia, se non migliaia di possibili vittime dove mettere riconoscimento dei cadaveri e soprattutto poi il problema quello invece dei feriti, quindi i soccorsi ai feriti. Io ricordo che per quanto concerne i rappresentanti del nostro nonosocomio, il nonosocomio locale, se ricordo bene non erro e mi perdonino se sto sbagliando, a quel tempo al terzo codice rosso si diceva che il pronto soccorso sarebbe andato in tiente. Quindi se noi parliamo di decine, centinaia o ancora di più di persone, chiaramente possiamo renderci conto della situazione quale potrebbe essere. Ed in più noi abbiamo i mezzi, i mezzi che ovviamente qui non ci stanno, devono venire sicuramente da Roma, da fuori, l'autostrada, quindi l'autostrada che andrebbe chiusa, i curiosi che arrivano e che creano disagio. Quando avviene l'evento, se mai dovesse avvenire, in che periodo? Perché se è novembre a mezzanotte probabilmente le strade sono libere, ma se gli attentatori lo fanno in un periodo estivo quando alle nove, nove e mezza di sera ci sono gli imbarchi e gli attentati si fanno per destabilizzare e creare problemi, io mi immagino l'autostrada quella che può essere i problemi per deviare il traffico, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un panorama, come dire, è una situazione di quello che potrebbe essere avvenuto, adesso però, poi chiudiamo perché siamo già sui limiti del tempo, la situazione invece è come poterlo prevenire, perché qui dobbiamo far capire, io non voglio fare polemiche con alcuni deputati grillini che hanno equiparato i kamikaze di Nassiria con i nostri militari attaccati e uccisi da un attaccato vile, anche a loro come memoria ricordo, qui bisogna far capire senza entrare nella guerra di religioni che un conto è avere un confronto con persone normali che poi può degenerare, è un conto partire e avere di fronte uno che vuole venire qui a chiarare danno morendo, cioè lui non c'ha nulla da perdere, quindi bisogna capire che la prevenzione viene fatta anche nei particolari, quindi il vestito come deve essere qui, bisogna capire che probabilmente questa della Francia è il primo avvisaglio di un inizio di una guerra, guerra che va combattuta lì, sicuramente, ma va anche prevenuta qua, chiudendo tutte le possibilità di entrata. Vorrei aggiungere, sono d'accordo e per chiarità non voglio entrare in nessuna diatriba politica, ripeto, la Francia si è unita, secondo me l'Italia dovrebbe fare altrettanto in un'attività di prevenzione, lasciare da parte i vari pensieri, unirsi per la difesa del nostro territorio, delle nostre genti, per dare sicurezza, perché già di sicurezza ce n'abbiamo poca a livello locale, a livello delle città, a livello delle periferie, per vari motivi, ma questa sicuramente è la sicurezza vera e propria della vita o della non vita e quindi prevenire attività di intelligence che è molto sopra di noi e quindi la lasciamo agli organi proposti. E poi è chiaro, non è facile perché sono mine vacanti e ce ne stanno tante e poi sicuramente pensare, per me è un pensiero, un consiglio che verrà valutato da chi di competenza, ad un piano del genere perché se dovesse accadere una cosa del genere io non so se siamo in grado, se è stato studiato, se è stato predisposto un qualcosa per poter avere semplicemente gli spazi enormi per ammassare i mezzi e tutto quello che ne consegue. Con questo chiudiamo qui questo speciale TG da 0766 News, ringraziamo l'ospite Remo Fontana che è anche il nostro esperto per quanto riguarda la rubrica sicurezza legalità e diamo l'appuntamento al prossimo numero, buonasera. Grazie ancora, arrivederci a tutti. Grazie a tutti.